È positivo al coronavirus il padre della bimba di due anni di San Mauro Marchesato nel Crotonese ed è asintomatico. L'ASP di Crotone conferma l'unica positività registrata sui primi 17 tamponi effettuati sui contatti della bimba. È ricoverata nella sera di ferragosto, risultata positiva al covid, è ricoverata nel reparto di pediatria del San Giovanni di Dio. La bimba è stata dimessa dal nostro commio crotonese e posta in quarantena obbligatoria a casa. Sulla vicenda della bimba di San Mauro Marchesato sui nuovi contagi nel Crotonese sentiamo il direttore del presidio medico ospedale San Giovanni Dio di Crotone che è il dottor Lucio Cosentino. Come sta la bambina? La bambina è stata dimessa, è in isolamento a casa insieme al papà, adesso ce l'ha in carico il dipartimento di prevenzione e quindi adesso si aspetta l'evoluzione ma dovrebbe essere positiva. Nella positività della bambina che era regolarmente isolata in una stanza in pediatria si è successivamente proceduto a fare uno screening con tutti i contatti, quindi nello specifico con tutti i ricoverati e con gli operatori della pediatria. Oggi si completerà lo screening su tutti. I contatti diciamo che nei tamponi effettuati ieri risultano essere tutti negativi tranne il papà della bambina e questo in un certo senso tranquillizza perché fa capire chiaramente che la bimba è arrivata positiva in ospedale e che non ha avuto problemi all'interno dell'ospedale. Adesso il caso è circoscritto, l'allerta è molto alta, lo dimostrano le ultime ordinanze del Ministero della Salute, l'aumento esponenziale della crescita delle infezioni che vi è in Italia e in tutta Europa e quindi arrivare al pronto soccorso veramente se è necessario. Vi aspettavate in qualche modo da quello che era il vostro osservatorio privilegiato nuovi contagi? Ma diciamo che purtroppo ce l'aspettavamo anche perché lei come me che gira in città si rende conto che non c'è assolutamente il rispetto minimo delle regole. Quindi la mascherina è un'opzione, la si tiene attaccata al polso, la si tiene attaccata agli occhiali, la si tiene in tasca e invece è fondamentale proprio per evitare anche per l'alto numero di persone che sono venute da fuori e non tutte si sono dichiarate ovviamente.